Ciao a tutti, sono Valeria Carullo, Miss Abruzzo Sport 2012. Oggi sono qui rappresentanza dell'Agenzia PAI. L'Agenzia PAI è l'esclusivista del concorso di Miss Italia per la regione Marche Abruzzo. Quindi sono fiera di poterla rappresentare in questa doppia veste, sia come collaboratrice che come ex Miss. Riverà qui con noi Alice Sabatini, la Miss Italia 2015. Siamo anche in attesa di alcuni assessori e sindaci della provincia di Pescari-Pieti. Ciao, sono Francesca delle Monache, ho partecipato quest'anno al concorso di Miss Italia, spinta in particolar modo dai miei genitori, dal mio fratello. Il consiglio che posso dare alle ragazze aspiranti Miss o comunque che avrebbero intenzione di iscriversi al concorso è quella di divertirsi prima di tutto e non prenderla troppo sul serio, perché non è detto che magari non riuscire in questo concorso significhi comunque non riuscire anche in altre cose. Bisogna sempre tentare e non rimanerci male se non si arriva fino in fondo. Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Vorremmo portare il tiro di Miss Italia in Abruzzo, non ce ne voglio Alice, è una cosa che ci manca da tantissimi anni, spero che se saranno molte ragazze volessi iscrivere, tramite l'agenzia PAI che è di San Benedetto del Tronto. Lascio un recapito che è 0735 85785 oppure tramite i collaboratori regionali da cui anche me. Ormai sono quattro mesi che sono in Sitalia e stanno ripartendo le selezioni regionali e devo dire che spero che si iscrivano tantissimi ragazzi quest'anno perché è un'esperienza bellissima e che auguro a te non solo la vittoria ma anche già i 20 giorni suoi esono sono stati impegnativi e formativi. Io sono cresciuta moltissimo e non pensavo che a 19 anni avrei potuto avere tutte queste responsabilità però me la sto cavando bene quindi seguirò tutte le selezioni regionali, voglio vedere tantissime ragazze e lasciare la corona sicuramente sarà una bella cosa perché passi una bellissima esperienza ad un'altra ragazza e Sitalia deve durare soltanto un anno perché è veramente piena di impegni e in questo anno dai tutto per tutto. Volevo cogliere l'occasione per invitare tutte le ragazze abruzzesi e non a iscriversi al concorso sul sito di www.missitalia.it Come referenti siamo noi dell'agenzia PAI, esclusivisti regionali Abruzzo e Marche. Partecipate tutti! Tutti bene! Tutti bene! Grazie a tutti.